Signori Presidenti del Senato e della Camera, Signor Presidente della Corte Costituzionale, Signor Presidente del Consiglio, Signori Ministri, Signor Presidente, Signori Consiglieri della Corte dei Conti, Autorità, Signore e Signori. Questa cerimonia costituisce ancora una proiezione delle già così significative celebrazioni del centocinquantenario dell'Unità d'Italia, abbracciando momenti importanti nei mesi e negli anni immediatamente successivi all'atto fondativo di assestamento delle basi del nuovo Stato unitario. In questo spirito si sono mossi nelle loro prolusioni il Presidente Giampaolino e il Presidente Amato. Quest'ultimo, in continuità col ruolo essenziale svolto in tutte le iniziative del 2010-2011, ci ha dato anche una rigorosa e problematica ricostruzione e periodizzazione del dibattito in tema di controlli, svoltosi sul piano giuridico-istituzionale nella fase successiva alla nascita della Costituzione Repubblicana. E non ha mancato di collocare se stesso e le sue posizioni nell'ambito di quel dibattito, riconoscendo tra l'altro le buone ragioni di un misurato continuismo nella evoluzione della Corte dei Conti. Ringrazio lui e ringrazio il Presidente Giampaolino per la sua puntuale analisi concentrata sulle nuove prospettive dell'Istituto. E non la posso pretendere di aggiungere a cotanto senno. Vorrei solo rilevare l'importanza dell'argomento addotto dal Professore Amato, al supporto della piena sostenibilità costituzionale dell'estensione dei controlli della Corte a tutte le sfere nelle quali ci si avvalga con continuità e ordinarietà di risorse finanziarie pubbliche. E questo ha anche un contributo di riflessione che si offre al Parlamento, impegnato nell'esame del Decreto-Legge numero 174 e del disegno di legge costituzionale di parziale revisione del titolo quinto della Carta. E vorrei soprattutto raccogliere i riferimenti del Presidente Giampaolino al contesto europeo, contesto nel quale si è già collocata la riforma dell'Art. 81 della Costituzione, imperniata sulla regola del pareggio di bilancio. Non si è forse ancora ben apprezzata l'importanza di cui la riforma e delle sue implicazioni in materia di controllo della finanza pubblica e quindi di ruolo della Corte dei Conti. In quella scia si muovono ora i provvedimenti da me citati all'esame del Parlamento. Abbiamo indirizzato su questo terreno e ci accingiamo a indirizzare un valido messaggio e contributo all'Europa, nel segno del necessario conseguente avanzamento del processo di integrazione. L'Italia non si è limitata a sottoscrivere intese come quelle sancite nel cosiddetto Six-Pack e nel Fiscal Compact, ma mostra come si debba e possa lavorare per rendere concreta e operante, in modo trasparente e con metodo democratico, una nuova disciplina di bilancio comune, condizione indispensabile per l'avvio di una nuova prospettiva di sviluppo economico e sociale sostenibile. Mi si lasci infine osservare che c'è dunque materia assai rilevante per l'impegno del Governo e del Parlamento di qui alla scadenza naturale della legislatura. Una scadenza sufficientemente vicina per consentire alle forze politiche di prepararsi a riassumere pienamente il loro ruolo nella vita istituzionale, sottoponendo liberamente al corpo elettorale, sulla base di nuove regole, le loro diversificate analisi e piattaforme programmatiche. Una scadenza per la conclusione della legislatura e del settennato presidenziale, tale al tempo stesso da suggerire ancora un'ampia e operosa assunzione di responsabilità in vista delle sfide che sono davanti all'Italia e all'Europa. E che sono, come qui si è detto, dinanzi alla Corte dei Conti, qui va il mio incitamento ed augurio nella certezza che essa saprà farvi pienamente fronte. Grazie. 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 Grazie.